Allora, è arrivata il tuo idolo, già l'hai conosciuta l'altra volta, sei contenta che sia venuta a vedere dove abiti? Sì, camcino. No, siamo molto felici di questa possibilità, vero Ilaria? Adesso oggi gli facciamo vedere a Raffaella un po' come viviamo, li abbiamo invitati a pranzo e poi da qui, dai, già che nasca una bella amicizia, è una cosa... Poi tutte le occasioni che capitano le prendiamo, e noi le occasioni ci piace sfruttarle, non lasciarle lì, così. A fondo ce l'è lì. E qua ci sono tutti i ragazzi attorno che non aspettano altro che fare due palleggi con la campionessa, vero Dante? Ma una giocatrice di Serie A, che robe farà? Sì, è certo. Scusa, lei è stata, allora, capitano del Milan, nella nazionale in che ruolo è difensore e anche attaccante, quindi avevi... Poi, Marte, dove era nel tedesco? Nel tedesco? Nel tedesco? Armando? Bayern? 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 Sì, 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 sì. E poi dove si è stata? È vero che hai fatto 60 partite e 20 gol? Ma miseria, ma chi mi hai studiato, ragazzi? Me l'ha detto Marteo. Matteo? Matteo? Lui è enciclopedia del calcio? No. Eh no, non poco. Mi piace. Pronti. 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 Pronti.